Un po' di nevischio, un po' di nevischio, sì, ma dopo, venendo in giro, era proprio vento forte. Ci sono la neve, vedi? Neve. Neve, sì, sì. Che bravo ti stai. Eh, sì. No, no, è una roba, è una cosa la quale tengo. Guarda che vale la pena, sa? Sì, sì, sì. Tu nel tuo lavoro perfezione e apprendi queste cose, non è facile, perché è unico al mondo questo. Eh, lo sa, lo sa, lo sa. In altri posti, come in Belgio, in Francia, non so, tutti, i ragazzi cercano di andare avanti la tradizione, i ragazzi chiedono scuole, perché la gente possa andare, cioè i porti avanti, ecco, solo qua pure. Solo qua pure. Allora mi hai fatto baruffa con quella che comanda dei musei. Allora dico qua, tutti quanti si riferiscono, perché è in riferimento dell'arte, paura che si è aperto tutti i negozi. E siamo contenti perché tutti lavorano, ma è stato in riferimento dell'arte. E' un'opera d'arte che va conservata sicuramente. E' va sviluppata, portandola magari sul moderno. Sì, ma adesso anche la Lucia che ti emerge, leo Pasquale. La mia festa, la sei la cagliata, la mamma andasse a vita e la sei stata la mia allieva, questa sorella. Ma anche qui, Varega ha fatto una pubblicità sbagliata, perché io gli ho detto che sei una o due persone che lavora, ma non sei una o due persone che lavora. E tu di quei che sei che lavora, delle donne? Anche lei si diletta, signora. Io faccio il disegno. Ah, lei fa il disegno. Adesso? Eh, nel centro, che sarà molto più lungo. In questo centro qua. Allora, arriviamo a un disegnatore, non riesco. Lei è disegnatrice. Ah, lei fa il disegno. Perché ha fatto la cuora d'arte e mi piace. Questi sono degli inserti. Perché cerchiamo di inventare anche cose nuove. Disegni nuovi, capisco. Guardi, questi li useremo sul servizio americano, diciamo. Però simile. Abbiamo fatto anche una borsetta. Eh, la borsetta, vabbè. Questo ci è stato commissionato e ho inventato. Sarà un metro e settanta. Un metro e settanta. E quanto ci vorrà per finire? Abbiamo iniziato a fine novembre. Dicembre. Dicembre. Ma cominciamo a fare il disegno. Un altro mese. Un altro mese. E a dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Quattro mesi buoni. Quattro mesi. Lavorandoci. Sì, sì. Sì, sì.